Come monitore sai bene che per i giovani non è sempre facile. Ogni giorno sono sottoposti a innumerevoli stimoli e ciò può renderli insicuri e stressarli. Guarda Marco. È davvero furioso perché non gli riesce la capovolta in avanti e allo stesso tempo vede che Lea la fa quasi alla perfezione. Marco non ne può più e sfoga su Lea la propria frustrazione. Cosa puoi fare come monitore? Allena con i giovani del tuo gruppo le competenze psicosociali. Ad esempio come gestire sentimenti e stress. Funziona come se dovessi insegnare un nuovo movimento. Dapprima osservi Marco mentre esegue la capovolta in avanti. Rilevi che non spinge il mento verso il petto. Parla con lui di quello che hai osservato. Valutate insieme la situazione e cercate di scoprire come la capovolta potrebbe riuscire meglio. Consiglia Marco precisando a cosa deve fare attenzione nel prossimo tentativo. Marco prova di nuovo. Stagli vicino mentre esegue l'esercizio. Ripetete la procedura fin quando il movimento è acquisito e Marco esegue alla perfezione la capovolta in avanti. Così aiuti concretamente il giovane ad apprendere il movimento. Come per l'apprendimento del movimento puoi allenare con Marco anche come gestire i sentimenti con calma e ponderazione. Osserva il comportamento di Marco e parlane con lui. Poi riflettete insieme su come potrebbe comportarsi una prossima volta. E anche in questo caso bisogna allenarsi ripetutamente. Continua ad aiutarlo. Grazie al tuo sostegno Marco ha perfezionato la capovolta in avanti e ha fatto progressi per quel che riguarda una migliore gestione dei propri sentimenti. Lavorando sulle competenze psicosociali e su quelle in materia di salute aiuti i giovani a svilupparsi sia sul piano sportivo che umano. Ciò facendo possono conoscere se stessi, inquadrare adeguatamente gli influssi esterni e affrontare in modo creativo i problemi. Rendi forti i giovani che ti sono affidati affinché prendano le decisioni giuste per una vita sana.